Frecciate appuntite, ancora una volta il tema dei Velocar entra con prepotenza nel dibattito elettorale dal centro-destra. Arriva forte l'accusa di averli fatti installare in posizioni strategiche in cui gli automobilisti arrivano da strade con limiti più alti e quindi sono indotti a premere più forte sull'acceleratore. Gli autovelex sono posizionati, molti di questi sono posizionati non per rallentare il traffico, per assicurare che i bambini possono attraversare la strada senza correre rischi ma sono proprio verso l'entrata e uscita dell'autostrada quindi lì dove la gente spesso va un po' oltre il limite e si vede anche statisticamente che qui multano di più e quindi è diventato purtroppo un sistema per fare cassa e quindi questo è un grande problema. Palazzo Vecchio ha scelto di non replicare nello specifico ma sulle altre tematiche di sicurezza stradale e ambientale. Sono state studiate singolarmente quartiere per quartiere e realizzate soprattutto in aree residenziali dove ci sono scuole e molti incroci, ha detto l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a proposito delle zone 30, mentre sullo scudo verde ha ribadito che ad ora la ZTL sta solo facendo monitoraggio. Anche la candidata del centro-sinistra Sara Funaro ha preferito rispondere sul tema tramvia Schmidt che ha proposto di farla passare 30-40 metri sotto terra per non impattare sulla superficie. Bisogna parlare e proporre cose che sono concrete e realizzabili. Mi sembra che il candidato della destra stia mettendo in campo delle proposte che sono irrealizzabili. Sulle tramvie ha detto tutto il contrario di tutto. Mi sembra che rilanci per di fatto mantenere quello che era la posizione iniziale e che è un no alle tramvie. La nostra posizione invece da questo punto di vista è molto chiara. Le tramvie sono necessarie, sono una risposta importante per la città e su queste bisogna andare avanti. Inviterei Schmidt a studiarsi i progetti prima di parlare.